Questa è una riformulazione proposta dalla relatrice avanzate dalle associazioni e degli operatori del settore Allora, quindi, poco votazione e vendamento, 19.200, valere senato non approva 19.201, insieme anche alla relatrice, al governo Presidente, io vorrei... Allora, agiamo e... I presentatori ci possono dire cosa intendono fare? La prova è cogliere la riformulazione, quindi ha conto e quindi si prende...